La storia narra che anche il re Gustavo di Svezia trascorse qualche giorno di mare nel tratto di spiaggia dello storico stabilimento balneare della Conchiglia. Alla fine degli anni 50 e degli anni 60, l'idola Conchiglia, soprannominato Perla del Mediterraneo, visse il periodo di splendore. Metà di migliaia di turisti siciliani e nonne è centro di attività culturali, musicale e di spettacolo. I migliori artisti sono passati da quel locale, dai Pu a Mina, da Celentano a Domenico Modugno e Gianni Morandi, da Mike Buongiorno a Pippo Baudo. Oggi la Conchiglia è un rudere su cui prendo un'ordinanza di demolizione, ma tornerà a vivere gli anni d'oro grazie ad un'opera teatrale che sarà portata sul palco del Teatro Eschilo il 7 luglio dalle compagnie di Stefano Rizzo. L'opera Profumo di Ginestre nasce dall'ispirazione dell'omonimo libro di Franco Città pubblicato nel 2011. Gli anni 60 che è l'ambiente temporale, lo spazio temporale che noi narriamo nello spettacolo mi appassionano. Quindi contestualizzando poi tutta la vicenda a Gela, raccontando il passato che forse oggi come tempi difficili occorre ancora di più ricordare, trasportiamo indietro lo spettatore in quegli anni 60 d'oro che rappresentavano il boom economico di Gela. E quindi poi attraverso la storia personale di sei ragazzi e le loro famiglie andiamo a generalizzare tornando indietro nel tempo. Quindi c'era il petrolchimico, c'era il contrasto tra il nord e il sud, c'erano tante sfaccettature della società di allora che vengono rappresentate in scena. La conchiglia, simbolo di Gela, ormai caduta nel degrado e nell'abbandono, rivivrà sul palco un pezzo di storia della nostra città, quando era la location più gettonata per i matrimoni e serate danzandi e i gelesi di ogni età godevano della sua particolare collocazione sul mare. Tutto il primo atto, la prima scena è ambientata all'interno della conchiglia, nel senso che l'ambiente della conchiglia sarà realizzato messo in scena a teatro. Profumo di Ginestre nasce grazie all'ispirazione che il regista Gelese ha tratto dall'omonimo romanzo di Franco Città, pubblicato nel 2011. Andando a camminare sul lungomare, nel mese di maggio, le nostre dune sono piene di ginestre, le quali emanano un profumo eccezionale. Questo profumo inserito nelle narici arriva al cervello e stimola le idee e allora sono nate queste idee. Non solo le mie idee, io poi ho parlato con molti miei amici, i quali mi hanno dato i loro ricordi. Assieme a questi abbiamo messo assieme appunto tutto questo lavoro che sono condensato in questo libro di 350 pagine. E racchiude appunto la storia di Gela parlando di quello che fu, di quello che oggi non c'è più perché i valori, forse anche quelli, sono andati via. Prima Gela era fatta di piccole cose, la gente si aiutava per le strade, erano valide le forze sia fisiche che economiche, ma poi lo stravolgimento con l'avvento del Leni e dell'industria. E' vero che è stato un ascensore sociale, come dice il mio amico Tillo Nocera, però è successo che quei valori si sono lentamente perduti.